Benvenuto, benvenuto a Inaci69.trading e il mio blog videoripetizioni.com L'obiettivo di questo breve video è dirti che abbiamo messo online il primo nodo AC69 a commissioni zero sul NOMIC, sul progetto NOMIC, perché NOMIC è un primo esperimento e ci piace. In tanti mi avete scritto sia nei gruppi su Facebook sia per email e ti ringrazio a te che sei dall'altra parte tantissimo mi dici Leo guarda quando voglio mettere, voglio ridelegare, quindi vai su manage e fai più can delegate, ridelegate, voglio ridelegare i miei NOMIC a staking sul nodo AC69 non mi funziona e quindi come facciamo? Te lo spiego subito e ti spiego subito il perché. Innanzitutto chi è che ha NOMIC? Controlla se hai NOMIC, vai su app.nomic.io, il sito è questo, nomic.io clicca su enter the app e controlli quanti NOMIC hai nel tuo balance perché li hanno ricevuto a staking tutti i cosmonauti che avevano Atom a staking al primo gennaio 2022. Quindi se sei uno dei fortunati complimenti, se non sei uno dei fortunati aspetta perché a breve sarà tradabile e quindi comprabile tra virgolette NOMIC. Diamoci un'occhiata. Il nostro nodo Made in Italy si chiama 0% fee perché puntiamo molto sull'ecosistema Atom, Cosmos e NOMIC e non vogliamo far pagare commissioni a nessuno, a differenza degli altri che hanno che l'1%, che il 5%, che anche il 10%, il 4,2% di commissioni e via dicendo. Noi 1069 per la community cerchiamo di dare tutto, anche se ti confesso che mantenere un nodo validatore non è economico perché costa e anche a livello non solo di soldi ma di tempo, costa anche fatica, stress e tempo, che forse è la risorsa più preziosa oggigiorno. Come vedi, io ne ho messi 530 tutti i NOMIC che avevo fatto all-in perché quando fai tasto destro sui nodi a cui hai delegato i tuoi NOMIC non ti fa ridelegare, quindi vai qua, fai redelegate, non ti fa ridelegare, daci 69, perché siamo ancora purtroppo fra i nodi inattivi, infatti ci trovi non fra i primi 100 attivi, ma tra i nodi inattivi ha la posizione 14 con 624 NOM, addirittura grazie, ne avete delegato uno in più, grazie mille. Quindi il consiglio non finanziario, ma come puoi supportare ACI69 e il nostro nodo validatore a commissioni di ripeto 0, puoi ridelegare le ricompense dei tuoi NOMIC, quindi quando clicchi qua e clicchi Claim Rewards, ok, quindi ottieni ricompense delle tue NOMIC, clicchi a prova, ora io ho 0 commissioni, 0 rewards perché già li ho messi a staking su ACI69, quando fai Claim le tue ricompense, e ti consiglio di farlo perché almeno fai compound, cioè prendi interessi sugli interessi, che ad ora stanno intorno al 140%, mi sembra, quindi più del doppio in un anno, vai poi su ACI69, lo cerchi tra gli inattivi di noti, lo riconosci perché c'è la figurina colorata, ringrazio Peppe per, ognuno si adopera nella community per aiutarci, grazie mille, per aiutare la community ACI69, lo riconosci qua, speriamo di scalare perché ce ne mancano pochi, circa 500 NOMIC andiamo fra gli attivi, quindi fra i primi 100, vai su manage e clicchi delegate, e a quel punto puoi delegare, lasciati sempre qualche 0.1 di NOMIC, non rimanere a 0, altrimenti poi non puoi ritirare neanche le tue ricompense, quindi delegali tutti, tranne un 0.1, clicchi delegate e vai avanti, il gioco è fatto, clicchi approva e grazie per aver dato il tuo contributo italiano a questo che spero sia il primo di tanti noti, perché secondo me è il bear market che bisogna farsi sentire e dare supporto alla community Cosmos e ai Cosmonauti, partiamo da NOMIC per fare esperienza perché è un progetto potente che dovrebbe portare, se va a buon fine, quando andrà a buon fine, la liquidità di Bitcoin all'interno dell'ecosistema Cosmos, un po' come EVMOS sta facendo per Ethereum, lo porta dentro Cosmos, anche NOMIC dovrebbe fare lo stesso per Bitcoin, quindi noi 10.69 ci siamo, ci stiamo organizzando con server e nodi validatori, questo è il primo di un'avventura che diventerà più grande, ti ringrazio tanto, iscriviti al canale per non perderti le prossime informazioni, aggiornamenti sull'ecosistema Cosmos, è uscito un corso completo, per pochi spiccioli, un paio di caffè, una birra, che spero ti dia tanto, tanto, tanto valore aggiunto, iscriviti gratis al canale, alla newsletter, vai su videoripedizioni.com e qua prenditi i tre corsi gratis, metti il tuo nome, la tua migliore mail e clicchi, da Leo, da AC69.trading, ti mando un caro saluto e buono staking di NOMIC, quindi fai staking solo delle ricompense, non puoi fare ad ora il restake, quando saremo fra i primi 100 attivi ti avvertirò comodamente, così pagherai zero fees e supporterai un progetto italiano. Grazie di cuore, un saluto da Leo, se ti va, condividi questo video. Ciao!